Raffaele Schiavi, un gigante in difesa, forse uno dei migliori in campo in senso assoluto, imbrigliati tutti gli avanti rossoneri, tre punti pesantissimi per questo Pescaro. Tre punti fondamentali per la nostra classifica, ma oggi credo che tutta la squadra è stato il migliore in campo. A partire dagli attaccanti fino al portiere abbiamo difeso tutti, è un risultato importante per noi, quindi l'applauso va al gruppo, credo che anche oggi abbiamo dimostrato di essere davvero un grande gruppo. Partita una spettacolare ma validissima sul piano agonistico, tante le recriminazioni sul fronte arbitrale di un Lanciano adesso in silenzio stampa. Tu dal campo? Fino ad ora credo che anche noi abbiamo avuto tanti torti arbitrali, quindi io valuto sempre il campo. Credo che su un campo migliore il Pescara poteva fare un altro tipo di partita, ma dato che il campo non permetteva di giocare palla a terra, si è visto di più l'agonismo e credo che sotto questo aspetto il Pescara ha dato un po' di più rispetto a Lanciano. Ottavo risultato utile consecutivo, 20 punti sugli ultimi 24 a disposizione, cosa è cambiato in questo Pescara? Non è cambiato nulla perché fin dalla prima partita le prestazioni ci sono state sempre, ora stiamo recuperando tutti gli effettivi, tutto il gruppo, è rientrato pure Sforzini, piano piano stiamo recuperando in tanti, quindi credo che il valore di questa squadra si sta vedendo.